Da Toast con Dito di Raffaello Fontanella, seconda puntata. Anche se non ho studiato, fa lei, mi è sempre piaciuto leggere. Quando ero più giovane di te, la sera andavo a letto e tenevo accesa la candela per leggere fino a tardi. Leggevo tutto quello che c'era in casa. E forse per questo adesso mi fanno male gli occhi e mi è venuta la malo... culo... maculopatia, le suggerisce lui. Alessio vorrebbe chiederle qualche titolo. È curioso. Non gliel'ha mai chiesto per paura di sentirsi rispondere la Bibbia. E basta. Questa risposta, in un certo senso, lo deluderebbe. Anche se non saprebbe dire perché. Sa bene che la Bibbia la legge ancora ogni sera. Lo sa perché quando tocca a loro tenere la nonna e vanno a prenderla dalla zia, una volta a casa le danno sempre la camera da letto di Elena, che è via all'università. Ciò vuol dire che le loro stanze sono adiacenti e lui può sentirla mugugnare la sera. E quando la sente, è come se la vedesse, col suo rosario di plastica celeste in mano. Quando andava ancora all'elementari e l'aveva sentita la prima volta, non aveva capito che cosa barbugliasse. Aveva temuto che si sentisse male. Era stato sul punto di chiamare sua madre, ma poi aveva deciso di andare a vedere di persona. Aveva bussato alla porta socchiusa, che al primo colpo si era aperta piano, e aveva rivelato la scena di una donna curva e minuta, con intorno il vuoto della penombra, in vestaglia bianca, a fiorellini rosa, la gobba nascosta dal tappeto di capelli di seta colore nè, senza calze, gli alluci screpolati e valghi, spremuti nelle defonseca blu di spugna di cotone. Sempre quelle, lise sotto il tallone, con un po' di tacco rigorosamente in sughero, come quelle di sua madre, perché così facevano più male quando gliele tiravano dietro. Sua madre le comprava su Postal Market per tutte e due. Quella sera la vide di profilo, in piedi, davanti al cassettone. Con la punta dei pollici e degli indici teneva una cornicetta d'argento con la foto minuscola e sbiedita di suo marito morto, e muoveva le labbra. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore. L'eterno riposo dona a lui, oh Signore. Da quella sera, Alessio si era creato un'immagine del riposo eterno, come di una voragine senza confini, senza pareti, dove rimaneva sempre tanto spazio, sebbene fosse ultra stipata di spiriti, su cui piovevano le lacrime calde di sua nonna. Ripeti a voce alta, così anch'io imparo qualcosa, conclude la nonna, senza guardarlo, e sistemandosi sulla poltrona come a teatro. Ti fanno male gli occhi? Hai la maculopatia? Però guardati come sferruzzi, pensa Alessio. Tra le mani di lei prendono forma le babbucce di lana. Ad Alessio piacciono un casino. D'inverno non dorme mai senza. L'importante è non farlo sapere a nessuno. Quando si sarà trovata una ragazza con cui dormire, beh, allora penserà a come disfarsene e a come colmare il vuoto che lasceranno nel cassetto. Per ora fa come dice lei e legge a voce alta il titolo del capitolo da studiare. Il movimento di rotazione terrestre. Movimento terrestre, fa lei. Di rotazione terrestre, fa lui. La nonna incrocia i ferri sulla gonna, marrone a quadri. Anche il golf di lana è marrone, ma più scuro. Che non è il terremoto, dice lei. Doveva essere una domanda, ma non era abbastanza sicura. No, il movimento di rotazione della terra non è il terremoto, dice lui. Come se la terra girasse, ribatte lei. Anche questa avrebbe voluto fosse una domanda. Alessio sogghigna. È convinto che la nonna lo prende in giro. Poi capisce che non è così, che è seria. E ingoia qualche istante di silenzio prima di rispondere. Lo sanno tutti che la terra è piatta e non gira. Te l'immagini che gira? Non la guarda mentre lo dice, quindi non vede che è avvampata di colpo. Piatta come il culo di tua sorella, quello sì che gira. Ad Alessio sfugge una pernacchia nello sforzo di trattenere un'altra risata. Pensa che a Elena staranno fischiando le orecchie. Se sentisse la nonna, non la lascerebbe più dormire in camera sua.